Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio politico Demos sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni. Vediamo le singole istituzioni con la differenza con l'anno scorso e la differenza con dieci anni fa. Vediamo che nel 2019 la fiducia nelle forze dell'ordine è il 73%, l'anno scorso era il 72%, guadagna l'1%, mentre rispetto a dieci anni fa guadagna il 2%. Mentre per il Papa la fiducia è al 66%, in calo di 6 punti percentuali rispetto all'anno scorso che era al 72%, ma rispetto a dieci anni fa c'è un incremento del 12%. Riguardo il Presidente della Repubblica la fiducia quest'anno è al 55%, l'anno scorso era al 56%, quindi in calo di un punto percentuale rispetto a dieci anni fa il calo è del 16%. La fiducia verso la scuola è al 54%, esattamente come quella dell'anno scorso, mentre rispetto a dieci anni fa perde tre punti percentuali. La fiducia nella Chiesa è al 38%, esattamente uguale a quella dell'anno scorso, ma rispetto a dieci anni fa c'è un calo del 15%. Fiducia nel Comune c'è il 38% degli italiani che ha fiducia, uguale esattamente a quella dell'anno scorso, ma rispetto a dieci anni fa perde il 6%. Fiducia nella Magistratura al 36%, rispetto all'anno scorso perde 6 punti percentuali, rispetto a dieci anni fa perde 5 punti percentuali. Fiducia nell'Unione Europea 34%, praticamente guadagna un punto percentuale perché l'anno scorso era al 33%, mentre rispetto a dieci anni fa c'è una perdita del 15%. Fiducia nella Regione 30% uguale a quella dell'anno scorso, ma meno 4% rispetto a dieci anni fa. La fiducia nelle associazioni degli imprenditori, 24%, perde 5 punti percentuali rispetto all'anno scorso, mentre rispetto a dieci anni fa perde il 2%. La fiducia nei sindacati, tutti, 23%, uguale all'anno scorso, ma rispetto a dieci anni fa perde l'1%. La fiducia nello Stato 22%, perde 7 punti percentuali rispetto all'anno scorso e rispetto a dieci anni fa, meno 11%. La fiducia nelle banche al 19%, perde 2 punti percentuali rispetto all'anno scorso e rispetto a dieci anni fa è in variata. La fiducia nel Parlamento al 15%, mentre l'anno scorso era al 19% perde 4 punti percentuali e rispetto a dieci anni fa perde 4 punti percentuali. La fiducia nei partiti al 9% guadagna un punto percentuale rispetto all'anno scorso e è in variata rispetto a dieci anni fa. Quindi possiamo vedere che rispetto a dieci anni fa c'è più fiducia nel Papa, 12%, e un crollo della fiducia nel Presidente della Repubblica nella Chiesa e nell'Unione Europea e nello Stato. È terribile. Rispetto all'anno scorso invece il crollo maggiore è rispetto al Papa e rispetto alla magistratura e anche alle associazioni degli imprenditori e dello Stato. Quindi un quadro sinceramente non non bello. Grazie per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community del canale trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in Internet e fuori da Internet. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.